Era la prima volta che siamo arrivati qua con questa nuova squadra che è l'unione di due squadre del gruppo Fiora Piatro, ce la stiamo mettendo a tutta. All'inizio sicuramente c'era anche un po' di nervosismo, non tutte sono attituate a sette manifestazioni, anzi quasi nessuno, e sicuramente c'è ancora da migliorare qualcosa, però siamo fiduciose. Purtroppo ci spettavamo un esordio diverso, purtroppo l'epilogo non è stato come speravamo, e purtroppo abbiamo fatto tanti errori e si sa che in queste partite vince chi sbaglia di meno, loro hanno finito di meno e hanno vinto, però adesso testa alle prossime, non ci possiamo abbattere, quindi andiamo avanti. Sicuramente ci ha fregato tanto il fatto che purtroppo siamo con una ragazza in meno che si è fatta male durante i finali anni e venti, e quindi purtroppo avere un cambio in meno sicuramente ci ha influenzato perché è difficile non avere cambi, quindi sicuramente questo ci influenzerà anche nelle altre partite, però comunque non ci dobbiamo abbattere e dobbiamo continuare a dare tutto quello che abbiamo.